Non è mai banale parlare di un'esperienza che cambia la vita, non è banale dire che il servizio civile è un'esperienza che cambia la vita. Un anno intero di volontariato che permette di formarsi, di prepararsi in qualche modo anche al mondo del lavoro, di vivere a contatto con le esigenze sociali più importanti della popolazione. Per me l'esperienza del servizio civile è stata un'esperienza bellissima che consiglio vivamente a tutti perché ti migliora, ti forma in tutti i campi ed è un'esperienza che consiglio vivamente a tutti perché io ho deciso di svolgere questo percorso per superare delle paure, degli ostacoli e grazie al servizio civile nella misericordia mi ha aiutato a migliorare me stessa e anche di aiutare il prossimo. E stamane sono stati presentati ad Andrea presso la sede di Federazione delle Misericordie di Puglia i tanti progetti delle 19 sedi di misericordia che porteranno nel prossimo anno oltre 300 nuovi volontari di servizio civile per le comunità da Otranto a Castelluccio Valmaggiore passando per la BAT. Un'opportunità grandissima, è un'opportunità che ci ha visto, ha visto nelle nostre realtà iscriversi poi ragazzi per continuare quella che è l'esperienza iniziale del servizio civile. Quindi è un momento importante che noi consigliamo a tutti i ragazzi per avvicinarsi non solo al mondo del volontariato ma anche al mondo del lavoro se vogliamo. Molti ragazzi che hanno frequentato col servizio civile e le associazioni poi dopo hanno trovato la loro strada del futuro. Uno sforzo importante è quello dei colori giallo-ociano in tutta Italia con oltre 3.000 giovani che saranno accolti per questa esperienza. Nello specifico in Puglia saranno 251 i giovani selezionati con bando ordinario e 56 con bando di garanzia giovani. I servizi attivati riguardano le tantissime attività messe già in campo quotidianamente dalle misericordie sia in ambito sociale che di protezione civile ma ci sono tanti nuovi progetti. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda online raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone. Qui attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la propria candidatura. Per informazioni sui progetti delle misericordie nello specifico sarà possibile collegarsi al sito www.misericordie.it. Tenendo presente che ci sono due requisiti importanti iniziali che sono lo speed e il curriculum. Dopodiché poi aprendo nella piattaforma le varie finestre poi si possono osservare i progetti, la zona dove viene effettuato il progetto e quindi possono scegliere il ragazzo o la ragazza può scegliere quello che è il progetto più attinente e il luogo anche più idoneo.